boom bebe come ha fatto la donna? pareggio questo gioco è una droga la trovi veramente no io 5 video 5 asso si parte oh si parte benissimo si parte bene si parte bene si parte 14 ma più bestia aumenta ma come di nuovo 14 ma un'altra 12 fino a 500 dai ora prendo il tavolo e io lo infilo in bocca no ho detto mi posso anche alciare dallo ala io non mi alzo qui fino a che non arrivo a 40 mila quanto vi rapino dopo eh appunto 19 io sto 16 se fa 20 o 21 il banco mi cazzo mi cazzo mi cazzo e ho perso e dai 10 mila ma che palle io ho fatto 16 ma se aumento sballo se non una me vai cagare vai top non volevo postare di nuovo 5 mila messo si veramente di bestia ho preso 3 11 10 o mi deve dare una figura perchè io c'ho 10 lui c'ha 10 12 12 madonna ma tu sei stronzo ti sei stronzo dillo 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 cont daria ti fai ti fai quanti 10 scendi 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 dammi il mio numero fortunato 1.500 10 eh io ora doppio mi sa sai 13 io io non ho parole Io non ho par... Raddoppio, baby Boom, baby Pareggio Che pietro tutto bene Ma lo ammetti di puntare così tanto? Silence! Ho fatto un po' Oh, oh, pietro, 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 pietro No, 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 no Ah, ecco, sarà di bene 3750 Madonna 10.000 Madonna Di nuovo una puntata, basta, basta 10 5 14 14 Un 8 E' di un 8 Ma allora Madonna, fuffana Dammi Non grazie Non apposto a 18 Tu Tu non puoi prendere una carta dal nulla E metterla quando io so 18 Ma perché la tira fuori un'altra? No, perché alcune volte lascia due Poi, come quella volta lì Tira fuori un'altra Eh, ma per sé L'asso L'asso può valere o uno Oppure 11 Può decidere lui Il banca ha fatto eh Ma Non mi ha fatto rimanere più di puttana Non mi ha fatto rimanere più di puttana